Soprattutto un quadro normativo che dietro l'esperienza di questi mesi riesca a sbloccare tante situazioni che dentro la ricostruzione sono ferme. Governance significa soprattutto rispettare gli interlocutori che stanno nel territorio perché portatori di una competenza importante. Quando noi diciamo che sulla ricostruzione privata, soprattutto sulla leggera, va fatta una scelta molto forte in termini di semplificazione, stessa cosa sulla pubblica che non può proseguire con le regole ordinarie. Quando abbiamo 100 persone che dovremmo assumere da un paio d'anni ma sono bloccate per regole assurde che ci impongono di prenderle con la mobilità. È il portato che permetterebbe, se ascoltato in una relazione positiva, di dare un fortissimo impulso alla ricostruzione. Crediamo che sarà uno degli ultimi passaggi in cui potremo con il governo interloquire sulle norme. Le norme governano pesantemente i meccanismi di ricostruzione e essere ascoltati è la cosa più importante. L'aspetto formale e, chiamiamolo quello che abbiamo chiesto alla Corte Costituzionale, è un valore, ma molto di più una dimensione di rispetto reciproco fra le istituzioni, di ascolto reale, di trasformare queste proposte in norme per permettere all'intero impianto della ricostruzione di accelerare e rispondere ai bisogni dei cittadini. Sono emendamenti rispetto all'impostazione della norma generale, non chiediamo ovviamente di stravolgere l'impianto. Un emendamento riguarda ad esempio il personale. Vogliamo poter reclutare in forme più flessibili perché con i trasferimenti da altri enti il meccanismo si è bloccato già da anni. Noi potremmo avere, con le spese già previste, 100 persone in più che lavorano sulla ricostruzione. Chiediamo che per le brevi la procedura sia rapidissima. Il tecnico fa un'autocertificazione, sulla base di quello si parte e poi faremo i controlli, in modo che venga prima la ricostruzione, poi i controlli. Questo aiuterebbe anche le pesanti, perché le 100 persone in più che vogliamo avere le dirotteremo in quel verso, in quella direzione. Sulla parte più strategica ci importa ripristinare quel rapporto tra Stato e Regioni che può favorire un governo positivo dell'intero processo e istituire un tavolo per il piano strategico. Immaginiamo anche forme nuove, figure che vengono scelte dagli albi professionali che svolgeranno proprio questa attività, che affiancano e in qualche maniera integrando il lavoro del professionista. Il professionista avanti con la ricostruzione è un altro professionista, affare alla controllore, in un meccanismo molto dinamico che non perde di vista il valore e l'importanza dei controlli, ma lo fa con una macchina che cammina, non controlli che bloccano tutto.